In un'epoca comandata da tiranni dove la rivoluzione ha i gridi di battaglia bisogna sempre si difendere e non da nemici qualsiasi ma da automati agguerriti pronti a tutto po' di eliminare la nostra corsa all'obiettivo. Per questo dobbiamo avere il totale controllo di ciò che ci accade attorno utilizzando il massimo della velocità della telecamera impostando un 50% 0,21 nei medi. Spesso quando la difesa diventa troppo grande per noi dobbiamo sfruttare tutto ciò che abbiamo nell'inventario. Per velocizzare tale azione consigliamo di impostare la freccetta destra e sinistra su S3 ed S1 invece su S4 ed S2 il tasto su e giù così da poter cambiare arma in maniera tattica e veloce in modo da poter mettere più danni possibili senza perdere troppo tempo.